Ciao ragazzi e ben ritornati da Fandom16 Oggi siamo in un nuovo video E oggi siamo in un altro vlog E come avrete già detto dal titolo Sì Mi sono fatto biondo Devo dire che mi piace tantissimo Questo essere biondo Perché è bichissimo Vabbè, fatto sta che Questo era il clou del Del vlog Quindi diciamo che potrei finire anche qua A 32 secondi Ma no Perché devo dire un po' di cose La prima punta è questa Per il resto del video In un mese Sarò così Quindi sarò biondo Mi vedrete con il ciuffo biondo E niente E per il resto L'altra cosa È che Presto Arriverà Un'altra parodia musicale Quindi credo che Io farò Incominciare una serie Appunto di parodie Musicali Perché quest'altra parodia E vi anticipo solo questo Che quest'altra parodia Sarà di volare E niente Queste erano le cose Che tenevo a precisare E niente Adesso sono a casa Di mio Di mio Zio Di mio nonno Diciamo Che viene Adesso al campo di giove Mi sto preparando Per una Comunione Una prima comunione Con il ciuffetto biondo E niente E il video Direi che potrei concluderlo qua Durà un minuto E 47 Regola questo video Perché In fondo Queste Erano le cose da dire Cioè Il titolo Il titolo è Mi sono fatto biondo Sì Mi sono fatto biondo Non lo potete vedere Quanti Non la clickbait E la seconda cosa Che volevo dire È che presto Ci sarà un'altra parodia musicale Quindi Incominceranno le serie Sulle parodie musicali E Niente Direi di concludere Qual video Ho sbagliato Ci doveva essere Il fail giornaliero Mi raccomando Mettete mi piace E iscrivete al mio canale Grazie per la visione Ciri Ciao gente